Se voi mi seguite da tanto tempo saprete benissimo che io nei video non cito mai nessun altro social o nessun'altra piattaforma dove io sono iscritto, per esempio Discord, il sito Viola, Telegram, ovviamente Insta, eccetera eccetera. Però veramente io non ci credo che sono su Discord da praticamente due anni, in questi due anni sono ancora, o meglio non bloccato, in questi due anni ho praticamente guadagnato soltanto 20 membri. E' incredibile che gli ultimi membri tra l'altro io ho dovuti non guadagnare io spammandoli, ma me li sono guadagnati con lo spam di un altro collega, ovvero Angelo, che l'ho dovuto praticamente spammare con l'Everyone sul suo server Discord. E vi rendete conto che basta soltanto che qualcuno dei miei colleghi, cioè mi va bene, ma mi fa incazzare il fatto che soltanto perché l'ha spammato Angelo, mo tutti quanti stanno entrando. E' incredibile, è come se quello che dico io non contasse nulla. E sto sfruttando anche questa cosa che adesso stanno ricominciando le persone ad iscriversi al mio canale, e la cosa mi va bene. Però, voglio un attimo dire una cosa a chi riguarda, anche se voi non li ritroverete mai, vi ho commentato che adesso li ho cancellati. Adesso voglio rispondere un po' alla domanda che tutti quanti mi fanno sotto i miei video popolari, dalle 150, 200, 300 o 400, anche 1000 visualizzazioni a passa. E tutti quanti mi dicono, ma perché tu hai portato un video recensione sul rencaggio di giochi canonici di Sonic con Luca Cudi e Retro Gaming? E poi per quale motivo tu porti un video recensione sui NERDUMA11 se tu hai iniziato portando il rap? Sul banner del canale c'è scritto recensioni su tante cose, capito? Dio! Vabbè, cazzata a parte, questo video in realtà l'ho voluto fare grazie in realtà ad Angelo, perché lui mi ha dato anche un po' di ispirazione nel fare questo video. E adesso vi spiego da dove è venuta fuori questa ispirazione. Se lo vi seguite, sia me che Angelo, saprete benissimo che noi a volte collaboriamo, che non so, per fare live su Twitch o su YouTube insieme, ma anche per fare qualche video insieme. E noi parliamo spesso in privato e a volte nei vari server dove noi siamo attivi insieme, praticamente. Noi stavamo facendo una live dove noi guardavamo video divertenti a caso, alcuni li ho consigliati io per lui e alcuni li ho consigliati lui per me. E lui mi ha consigliato appunto di guardare il video del DDM, quindi del Dio del Metal, dove lui spammava a manetta, descriveva il suo server Discord e dopo alla fine tutte le persone sono andate sul suo server Discord. Ed è il caso che lo faccia anch'io. Quindi ragazzi, andate sul mio server Discord, ma non solo sul mio server Discord. Seguitemi anche sul sito Viola, sto per dire la parola con la T. Tra l'altro dato che sto citando sempre Discord, dato che io sono partnership ufficiale di questo server qua in questione, ovvero SonicFandomItalia. Vi linko anche sotto in descrizione il server, ovviamente per i più appassionati di questo genere di videogiochi qua, anche, non so, riguardo retro gaming, eccetera, però l'argomento principale sarà ovviamente Sonic, dato che si chiama SonicFandomItalia. Linko anche il suo canale YouTube, LucaCodeRetroGaming. Linko anche il canale di Angelo e anche il suo canale di Twitch. E anche il suo server Discord, dato che come ho già detto prima, lui mi ha aiutato, o meglio, mi ha aiutato tra virgolette. Mi ha fatto vedere quel video e dopo alla fine mi ha dato un po' di ispirazione nel fare questo video. Ma tranquilli, questo qua è anche un annuncio per dire che il prossimo video sarà una recensione su Grap, quindi per tutti gli haters barra fan del cazzo che mi dicono nei video più popolari, perché adesso ti sei messo a portare le recensioni sui giochi di Sonic e poi anche le recensioni sugli anime in particolare, su Inazuma Eleven. Ragazzi, in questo momento lo sto facendo per voi, cioè io sto praticamente abbandonato 3-4 video su anime, su videogiochi, per poi alla fine tornare su questo argomento qua, rendetevi conto. E tra l'altro sotto in descrizione linko anche il canale di Yodis, dato che io sto diventando anche tra virgolette collaboratore, sempre tra virgolette ufficiale di Yodis, e quindi passate dal suo canale, anche se lui ha mille, mille iscritti più di me, però comunque è sempre un collaboratore, io lo lascio sia nei canali collaboratori in primo piano e sotto in descrizione, perché io cito sempre qualcuno nei video quando mi pare giusto, e quindi li devo per forza mettere in descrizione, perché ogni volta che tu li citi non devi non metterli in descrizione, tu devi metterli in descrizione. Quindi ragazzi, se voi siete appassionati di chiacchierate, eccetera, o anche su musica, videogiochi e tant'altro, passate da questi server Discord, io lascio tutti in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Sì! 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 Ciao!